Titolare inamovibile, fascia di capitano, è iniziata per te come questa esperienza a Pistoia? Diciamo che poteva magari iniziare meglio nel senso in termini di risultati, so che comunque c'è una situazione magari un po' difficile, però sicuramente ce la metteremo tutta per poter raggiungere l'obiettivo che è la salvezza, che secondo me è alla portata, secondo me non lo direi neanche per come sono fatto io, so che c'è una situazione particolare, però ce la metteremo tutta per poter raggiungere l'obiettivo che ci è stato detto. Secondo me, ti dico la verità, ci è mancata sicuramente magari un po' di fortuna, perché magari con l'Aianese e il secondo tempo non siamo stati brillanti della verità, perché non lo siamo stati, però magari se a San Marino ci gira leggermente meglio, sull'1-1 secondo me probabilmente rischia anche di vincere, per come ho visto io la partita, per come sono fatto io, ti ripeto, non direi ciò che non penso. Secondo me attualmente non è questione, magari sì, un po' di condizione, però è quell'unità che secondo me stiamo acquistando settimana dopo settimana, e secondo me si sta comunque creando quell'unione di intenti per poter raggiungere la salvezza, che spero arrivi quanto prima. Le prime partite per una squadra nuova non è il massimo, perché ha giocato contro la prima, la seconda, poi ha giocato un derby che era molto sentito, domenica andiamo a Carpi, e quella che dobbiamo avere è la cazzimma, un po' di cattiveria in più nel voler tenere un risultato, nel voler a tutti i costi, se non si può vincere non si perde, si pareggia al massimo, non è un alibi le sconfitte che ci sono state assolutamente, non deve passare questo messaggio. Le settimane servono per farci crescere come gruppo.